ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di acimilano inside quest'oggi focus su uno degli ultimi nomi caldi per la difesa rossonera ovvero malictivo dello shalker 04 prima di iniziare però come al solito vi chiedo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su youtube inoltre in descrizione troverete anche il link necessario per i nostri profili social social che vi consiglio di seguire visto che stasera faremo una live con un ospite molto speciale in più in descrizione troverete anche il nostro sito web ufficiale www.acimilanoinside.com la telenovela difensore centrale milan pare non finire qui dopo l'arrivo di lazetic nella giornata di ieri il milano comunque fortemente al lavoro per mettere a disposizione di stefano piolo un difensore centrale che possa sopperire all'assenza fino a fine stagione di simon kier in realtà tanti sono stati nomi accostati ai colori rossoneri nel corso di questa finestra di mercato si è passati da bottman con il quale comunque si sta comunque parlando e trattando per giugno per trovare un accordo per giugno secondo longo addirittura il milano sarebbe arrivato ad un accordo con lille sulla base di un prestito oneroso di 27 milioni di euro con un riscatto fissato a 33 al ragazzo è pronto un quadrenale ma comunque tutte quante voci che devono essere più confermate nell'immediato il milano non avrà la possibilità di acquistare bottman non avrà la possibilità di portare a milano comunque un difensore importante del calibro anche di di allò o di belli in quanto è stato confermato che il budget a disposizione della dirigenza rossonera per quest'ultima settimana di mercato o mai all'ultima settimana ultimi giorni di mercato si aggira attorno ai 5 ai 6 milioni di euro quindi adesso andremo a fare un focus su quello che è il nuovo nome per la difesa rosso nero ovvero Malik Thio dello Schalke 04 ragazzo 2001 nel frattempo io mi munirò di dati transfer macht così da potervi dire tutto per filo e per segno classe 2001 dell'agosto 2001 a vent'anni gioca in germania da mamma finlandese padre tedesco naturalizzato tedesco nella scorsa stagione e gioca lo Schalke 04 il ragazzo classe 2001 ha disputato complessivamente 131 gare con la squadra di Gersenkirchen tra giovanili e prima squadra avendo la possibilità di giocare sia un UEFA Youth League quando il quando lo Schalke era ancora in Bundesliga e comunque concorreva in Europa poi ha fatto anche una serie di presenze in Bundes per poi adesso essere titolarissimo con lo Schalke in zwei Bundesliga il ragazzo come abbiamo detto naturalizzato tedesco quest'anno ha giocato ben 20 partite non riuscendo a segnare nessuna nessuna rete per quanto riguarda il campionato con una munizione mentre in DFB Pokal ovvero la Coppa Nazionale tedesca ha racimolato una sola presenza il ragazzo comunque molto alto e ambidestro è molto bravo a impostare il gioco sia con un piede che con l'altro quindi potrebbe fare effettivamente al caso del Milan nel momento in cui potesse aggiungersi al gruppo squadra ovviamente il discorso principale che può essere posto su TO e che segue essenzialmente quella che è la politica di Elliot ovvero acquistare un ragazzo giovane un ragazzo che di prospettiva anche perché su di lui non c'è solo il Milan ma addirittura c'è anche il Napoli è forte anche l'interesse del Liverpool un ragazzo è comunque è di prospettiva ha un ottimo margine di miglioramento di crescita che fa il caso proprio della politica del mercato di di Elliot quindi investire sul ragazzo che in un futuro poi potrà essere venduto a cifre superiori molto superiori rispetto a quanto effettivamente siamo state investite per lui il problema come al solito che ostacola il Milan e comunque l'arrivo a un famigerato difensore centrale è il prezzo è l'operazione l'operazione che può essere che può essere fatta il Milan offre un prestito oneroso con diritto di riscatto che non supera i 6 milioni di euro mentre il lo Schalke chiede tra gli 8 e 10 milioni di euro anche in questa circostanza il prezzo è troppo alto il prezzo richiesto dalla società tedesca è troppo alto che addirittura porterebbe il Milan a sviare nuovamente su altre strade l'ultimo nome non ultimissimo ma comunque un altro nome al cui Milan fa riferimento è Esteve del Montpellier 18 anni in questo momento soprattutto vista la quasi immediatamente uscita di Chessy che pare essere prossimo al Barcellona visto che i contatti tra la gente a Tangana e i dirigenti Blaugrana si sono attivati intensificati negli ultimi giorni il Milan vorrebbe muoversi e comunque dare la possibilità ai tifosi di godersi un nuovo acquisto Lazidic per carità è un altro ragazzo di prospetto ma i tifosi milanessi sono rimasti un poco male in primis per il mancato arrivo ma comunque un mancato tentativo per per Dusan Blaugrana tornando al discorso di difensore che è quello di cui oggi ci interessa in maniera molto più molto più accanita se così vorremmo dire Dominic Thio quindi pare essere il il prescelto per la difesa rossonira anche lui giovanissimo e così si segue quella che è la linea verde preposta da Elliot il ragazzo comunque già il fatto che tante squadre sono interessate a lui fa pensare che non è un interessamento stupido ma comunque superficiale da parte della dirigenza rossonira cosa che comunque in due anni di Maldini Massara non è mai effettivamente avvenuta un altro un altro aspetto che potrebbe compromettere la trattativa ma non penso comunque la questione che il difensore tedesco finlandese è sotto sotto gli stessi procuratori di Akancianoglu quindi non so che sia la dirigenza rossonera possa avere attrito e comunque astro nei confronti di gente che quest'estate hanno giocato con con le offerte rossonere il Milan comunque in un modo o nell'altro per Dominic Thio ci proverà ci proverà perché il difensore è essenziale e fondamentale ripeto se non sarà Thio sarà un'altra seconda linea che il Milan sta cercando di marcare comunque di trovare l'operazione potrebbe in un modo o nell'altro chiudersi solo se il Milan sarà disposto a fare quel famosissimo passo in più quel famosissimo sacrificio economico che in questa sessione di mercato non è riuscito a fare per top come il Bottoman per il momento è tutto ovviamente vi invito nuovamente questa sera a seguire la nostra live con un ospite super speciale sul nostro profilo Instagram ci sentiamo nei prossimi giorni per nuove minuti di mercato augurandoci che comunque il Milan possa finalmente mettere a disposizione di Stefano Pioli un giocatore all'altezza delle aspettative del mister quindi mi auguro che questa comunque Milan Focus sul giovane ragazzo del disco possa esservi servita possa esservi piaciuta ci vediamo in un prossimo video e sempre forza Milan